Sì, dopo tanti anni è uno degli interventi maggiormente attesi dalla nostra cittadinanza perché sicuramente sarà fondamentale questo nuovo tratto stradale per eliminare la parte più importante del trattico dal centro di Figline in particolare ma per tutta la viabilità di Vallata. Finalmente stiamo vedendo le parti conclusive dell'intervento e l'auspicio che abbiamo è proprio quello che già dall'autunno si possa percorrere questa nuova viabilità e che sarà accompagnata anche da interventi compensativi per quanto riguarda il quartiere che purtroppo ha subito il disagio dei lavori e poi subirà ovviamente questa nuova viabilità. Stiamo lavorando proprio per riqualificare l'area verde vicina a quelle che sono le cosiddette navi a Figline per renderla un parco vivibile per i cittadini anche con un'area giochi proprio dedicata ai bambini. Quindi è un modo per rifare il quartiere per riqualificarlo e renderlo più fruibile per tutti oltre che per realizzare finalmente questa infrastruttura fondamentale.